Buonasera a tutte e a tutti. Certo, parlare di amicizia in giorni come questi verrebbe da dire non ce lo meritiamo. Non ce lo meritiamo perché, come dice un caro amico, di fronte a certi eventi della storia, l'unica cosa che meriteremmo è l'estinzione. Però appunto il mondo continua, sembra impossibile che si possa tollerare ancora e ancora, eppure continua. E continua anche in questa notte, illuminato da lampi che ci sostengono nella speranza che qualcosa, da qualcuno come una relazione decente o addirittura un'amicizia sia possibile. Io faccio una premessa e poi alcuni punti di introduzione a cui seguirà un percorso in quattro passi al quale, che poi concluderò con alcuni punti di sintesi. E la premessa è questa, che un'indagine più accurata avrebbe richiesto ben altro tempo per vedere molto altro rispetto a quello che riusciremo a vedere o intravedere questa sera. Per esempio, ci sono delle pagine straordinarie sulla amicizia tra Gionata e Davide. Ci sono pagine straordinarie nel profeta Geremia e nel profeta Osea. Sembrerebbe che un tema dell'amico e del nemico non possa fare a meno di un passaggio attraverso i salmi o Giobbe. Anche la sapienza, quella più classica e se volete anche un po' più conservatrice rispetto a Giobbe o a Coelet, e cioè quella di Proverbi e di Siracide, danno delle indicazioni, da delle indicazioni a questo proposito. Come consigliava Remotti, ho fatto delle scelte per ridurre la complessità di questo tema che è presente in maniera trasversale in tutta la scrittura, nella speranza di aver colto qualcosa di essenziale. Poi è chiaro che facendo, schematizzando, è inevitabile in qualche misura almeno che io tradisca la questione. Ecco, e tuttavia, qui cito Petrosino, se non riesco a fare tutto e non si riesce mai, nessuno riesce mai a fare tutto, non vuol dire che quello che si farà è niente. Tutto o niente è qualche cosa che dovrebbe sparire, anche questo merita l'estinzione, meriterebbe l'estinzione, dovrebbe sparire dal nostro linguaggio. L'introduzione è un po' questa. Anch'io sento fortemente, come dichiarava all'inizio del suo intervento Silvano Petrosino, il rischio di una retorica, se volete, di una deriva idealistica, perché quando si parla di amicizia, e amicizia in italiano, come anche in ebraico, in greco e in latino, è parola che deriva dal gruppo semantico dell'amore, dal lessico dell'amore. Però il rischio della retorica e dell'idealismo non ci deve condurre necessariamente e immediatamente a una posizione di tipo cinico o utilitaristico. In fondo non esiste l'amicizia, esistono soltanto scambi di favori o di godimenti. In fondo l'amicizia non esiste perché siamo feccia dell'universo e quindi, cosa vuoi, tanto vale campare. Ecco, queste sono... Ho dimenticato. Sono, facilmente diventano degli alibi per giustificare disimpegno e qualunquismo. C'è poi un altro elemento che è quello che mi riguarda più da vicino, più immediatamente, e che noi abbiamo a che fare con una parola, quella biblica, che la tradizione ebraica e quella cristiana e anche la tradizione islamica, per molti aspetti, considerano rivelazione divina. Ora, anche la storia rivela molto dell'essere umano e tuttavia la rivelazione divina, che pure racconta storie, non balle, storie, vicende, ha la pretesa di offrire un punto di vista che è quello appunto del creatore, di quello che Gesù chiamerà padre, e di quello che forse addirittura il Vangelo ci propone come amico. Allora, è chiaro, se è rivelazione, dobbiamo lasciare che Dio si riveli. E se è vero, come vedremo subito nel primo passo, ma lo richiamo già qui, che noi siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, è chiaro che per sapere chi siamo abbiamo bisogno che Dio si riveli. Perché dobbiamo stare attenti a non fare il contrario. Siccome siamo immagine e somiglianza di Dio, Dio ci assomiglierà. No, siamo noi che dobbiamo assomigliare a Lui. Se pensiamo di poter fare il contrario, cioè di proiettare su Dio quello che crediamo di essere, infallibilmente creiamo un idolo. Infallibilmente. Dio si rivela, abbiamo bisogno che si riveli per capire qualcosa anche di noi, oltre che di Lui. perché rivelandosi ci mostra a quale immagine, a quale somiglianza dobbiamo ispirare le scelte della nostra vita. Naturalmente rivelando, rivelando, diciamo così, in generale, il bene, la Bibbia non può che gettare la luce, illuminare e quindi rivelare anche il molto male che esiste. La luce illumina, ma appunto mostra anche le zone d'ombra. La Bibbia è realistica. Se noi abbiamo la tentazione di dire davanti allo sguardo biblico che è pessimista, dobbiamo fare un esame di coscienza noi, non la Bibbia. forse noi siamo afflitti da un idealismo e da una retorica incorreggibili. E non ci piace che la Bibbia, come tante altre sapienze umane, non ultima la psicanalisi, riveli aspetti di noi che non ci piacciono. Ma che ci sono, che esistono. essere adulti vuol dire sapersi misurare anche con l'ombra delle nostre esistenze, col tanto male che abita le nostre esistenze, e tuttavia anche accogliere questa certezza che la Bibbia continua a proporre, e cioè questa non è una condanna. il male che c'è nel cuore dell'uomo e nel mondo degli uomini e nella storia degli uomini è aperto, il male è aperto a una possibile o a possibili redenzioni. È difficile? Sì. È difficile sentir dire a Caino tu puoi dominare la bestia che c'è in te. è difficile e tuttavia non è impossibile. Vorrei a questo punto citarvi alcuni passaggi di una pagina che Nice nel così parlò Zaratustra dedica all'amico. Non se lo scrive a un amico, dedica alla questione, all'immagine dell'amico e dice così anche per correggere forse un aspetto che nella relazione di Silvano non mi trovava molto d'accordo. Laddove diceva che l'amicizia è potersi mostrare nudi senza temere o senza vergogna. Bene, Nice dice così non vuoi apparire vestito davanti al tuo amico? Dovrebbe essere un onore per il tuo amico che tu ti offra a lui così come sei ma egli ti manderà al diavolo proprio per questo. Chi non fa segreto di sé suscita indignazione. Tanto avete ragione di temere la nudità. Certo, se voi foste gli dèi potreste vergognarvi dei vostri vestiti. Notate, c'è un nascondimento giusto che Nice consiglia perché sia possibile l'amicizia. Più avanti dice nell'indovinare e nel tacere l'amico deve essere maestro. Indovina ma non dice. Non tutto almeno. Bisogna che tu non voglia vedere tutto. E poi ancora, un indovinare sia la tua compassione affinché in primo luogo tu sappia se il tuo amico vuole compassione. Forse invece egli ama in te l'occhio intrepido e lo sguardo dell'eternità. E infine credo che questa sia la frase da tenere sei uno schiavo allora sei incapace di essere amico. Sei un tiranno allora sei incapace di avere amici. Lo schiavo e il tiranno la schiava e la tiranna sono impossibilitati all'amicizia. Lo schiavo non può essere amico. Il tiranno non può avere amici perché sono due figure che negano la libertà e la parità. Bene questo mi sembrava interessante proporlo perché appunto Nietzsche dice cose di grande buonsenso certo poi nella sua prospettiva ecco allora un altro punto di questa introduzione arriva alla questione della libertà per questo nel titolo abbiamo messo la parola dramma dramma sì la libertà se c'è libertà c'è dramma perché la storia è il luogo della libertà ma è il luogo del bene del male della giustizia e dell'ingiustizia e adesso vi metto in fila alcune opposizioni che si trovano abbondantemente nella Bibbia amore odio amico nemico tradimento il tradimento il contrario di tradimento sorprendentemente per la Bibbia non è la fedeltà ma la consegna qualcuno si consegna e tu lo tradisci dedizione dominio fedeltà abbandono ora tutte queste cose ci sono sempre nella vita e ci sono sempre tutte insieme se qualcuno dovesse alzare la mano e dire no in me non c'è odio bisognerebbe condannarlo a tre settimane di ritiro continuativo in un luogo deserto a pane e acqua come fecero una volta sapete il conclave il conclave si chiama così perché li chiudono a chiave e questo è iniziata questa tradizione una volta che la tiravano per le lunghe e allora i chierici li hanno chiusi a chiave e gli hanno detto a pane e acqua fin quando non fate il papa in due giorni l'ha fatto avete capito ecco appunto appunto c'è tutto questo e c'è sempre tutto questo insieme fuori di noi intorno a noi e anche forse dentro di noi bisogna avere il coraggio di guardarlo perché certo è doloroso è deludente è faticoso eccetera eccetera però se uno non lo guarda oppure lo vede sempre solo fuori di sé continua a fare proiezioni dice un'amicizia è finita beh è colpa sua è lui che non ha fatto è lei che non ha detto eccetera sempre sempre così o almeno questa è la tentazione costante ecco Dio si presenta nella Bibbia dentro la storia umana e viene ad abitare le nostre i nostri intrighi i nostri ammassi le nostre matasse e non è che le districa no? e le rende semplici e lineari no? però dalle schiavitù ci indica quali sono le schiavitù e ci indica strade per uscire per fare che cosa? per fare alleanza con lui e tra di noi ecco l'immagine diciamo sorgiva genetica della amicizia e delle relazioni chiamiamole così positive tra gli esseri umani è l'immagine dell'alleanza che rende persone tra loro distanti vicine le approssima le approssima e questa è una delle parole che la Bibbia usa per dire anche l'amico il prossimo il socio il vicino ecco in questa maniera Dio e lo fa fin dall'inizio si mostra come custode di buone relazioni possibili possibili non automatiche che chiedono l'impegno la responsabilità della libertà delle persone ecco facciamo quattro passi e cominciamo il primo che intitolo così le relazioni i nomi i nomi di queste relazioni la promessa che c'è in queste relazioni e la scelta che queste relazioni richiedono anche se non impongono se no non sarebbe più una scelta ecco una notizia diciamo di tipo filologico l'area semantica dell'amicizia nella Bibbia non è un'area specifica cioè la parola amico in realtà non indica come in italiano l'amico e basta amico si può può anche indicare anzi di fatto attraversa e si intercambia con i nomi delle altre relazioni cioè possono essere amici tra di loro l'uomo e la donna intesi come compagni di vita come marito e moglie come amanti ma possono essere amici anche i fratelli possono essere amici parenti ecco infatti le parole più specifiche che indicano questa relazione che sono rea e oev sono parole che indicano appunto una prossimità una una dedizione una affezione che si trova in parallelo con la parola fratello amato socio altro eccetera ecco suppongono però per lo più anche se non esclusivamente un rapporto che sia alla pari e qui la prima più che pagina frase che vorrei ricordare la prendo la prendo da Genesi 2 quando al versetto 18 si legge il Signore Dio disse non è bene che l'uomo l'umano sia solo voglio fargli un aiuto che gli corrisponda la traduzione letterale di questo aiuto che gli corrisponda intanto notate non è bene nella prima pagina di Genesi Dio ha visto e ha valutato il suo operato come è bene è bello e Dio vide che era cosa buona bella tov qui dice non è tov non è bello non è buono che l'uomo sia solo la solitudine non è un valore e meno che mai è il luogo di una umanizzazione l'essere umano si umanizza nella relazione una relazione dice qui di aiuto di aiuto che però gli sta di fronte che gli corrisponda si può tradurre così un aiuto come a lui di fronte come a lui davanti come a lui presente cioè qui si sottintende neanche in maniera troppo implicita una reciprocità cioè stare di fronte vuol dire fronteggiare ma vuol dire essere alla pari guardarsi negli occhi e non uno che guarda dall'alto e l'altro che guarda dal basso o uno che guarda e l'altro che non guarda perché in questo caso sarebbe spiare non sarebbe guardare se uno guarda dall'alto domina non stabilisce una relazione feconda per sé e per l'altro o meglio feconda per l'altro e in questo anche per questo anche feconda per sé ecco questa è la promessa e insieme la difficoltà che la creazione dell'alterità comporta sempre nella vita umana promessa perché appunto può essere aiuto e può essere rivelazione l'altro si rivela e rivela anche me a me stesso e tuttavia l'alterità è anche un limite è anche qualcosa contro il quale si va a cozzare l'alterità è altro ma anche l'alterità altera cioè mi cambia ma anche mi fa un po' arrabbiare mi altera l'alterità è faticosa l'alterità pone una difficoltà ecco la storia che raccontano la storia tra virgolette che raccontano i miti genesiaci di Genesi 1 11 appunto spone insieme l'immagine delle relazioni fondamentali e però anche la loro corruzione la storia del rapporto uomo-donna dei fratelli Caino e Abele dell'impresa sociale il diluvio e della politica la torre di Abele attesta fallimenti attesta un dominio attesta un'uccisione il dilagare della violenza e attesta anche che per l'impresa politica soprattutto quando si pensa come impresa totalitaria comporta una sorta di autoschiavizzazione quelli che si mettono a costruire la torre di Abele che pure hanno deciso insieme di farlo si trovano costretti si costringono a cuocere mattoni ora cuocere mattoni sarà per sempre l'immagine di Israele schiavo del faraone d'Egitto costretto a cuocere i mattoni per le sue città per le sue piramidi per i suoi palazzi eccetera ecco allora questo è il punto c'è una relazione che è data ci precede noi nasciamo già relazionati dentro queste relazioni c'è una una promessa e tuttavia anche c'è c'è un'inclinazione diciamo così a sopraffare a dominare a cancellare questa alterità che ci urta che ci ustiona che ci dà fastidio perché sono appunto anche lì sono cose belle da dire no? l'alterità arricchisce l'alterità sì però quando tu ce n'è davanti uno che è veramente altro ma tanto tanto altro comincia a dire ma questo qui se non ci fosse quasi quasi e ci sono tanti modi no? per eliminare la presenza fastidiose moleste per esempio l'indifferenza per esempio il giudizio per esempio l'allontanamento per esempio eccetera eccetera va bene però sempre all'interno di questo primo passo a un certo momento noi vediamo che il popolo di Dio si costituisce grazie alla liberazione dalla schiavitù dell'Egitto e una pagina straordinaria del libro del Levitico al capitolo 19 inizia così il Signore parlò a Mosè e disse parla a tutta la comunità degli israeliti dicendo loro siate santi perché io il Signore vostro Dio sono santo cioè Dio ci vuole come lui e dice in che cosa vorrebbe che gli assomigliassimo la santità cioè la santità è la sua diversità la sua alterità si potrebbe tradurre siate altro sate altri perché io il Signore vostro Dio sono altro siate diversi perché io il Signore vostro Dio sono diverso e poi fa una sorta di parafrasi del decalogo passando in rassegna alcune relazioni alcuni no e dice ognuno di voi rispetti sua madre e suo padre non è previsto che si possa essere amici della mamma o del papà ma è richiesto il rispetto l'onore osservate i miei sabati io sono poi non rivolgetevi agli idoli e non fatevi divinità di metallo fuso e poi c'è una prescrizione sul sacrificio ma poi si arriva al povero e al forestiero quando mieterete la messe nella vostra terra non mieterete fino ai margini del campo né raccoglierete ciò che resta da spigolare della messe quanto alla tua vigna non coglierai i racimoli e non raccoglierai gli acini caduti li lascerai per il povero e per il forestiero che possono venire a spigolare a raccogliere e poi finalmente il prossimo non ruberete né userete inganno o menzogna a danno del prossimo prossimo è il vicino appunto è il simile come su questa somiglianza ricorderete Remotti ha insistito molto ma chi è questo prossimo e va avanti e dice non giulerete il falso servendovi del mio nome profanereste il nome del tuo Dio io sono il Signore non opprimerai il tuo prossimo né lo spoglierai di ciò che è suo non tratterai il salario del bracciante al tuo servizio non tratterrai scusate il salario del bracciante al tuo servizio fino al mattino dopo quindi il tuo bracciante è il tuo prossimo non maledirai il sordo né metterai in ciampo davanti al cieco il disabile è il tuo prossimo non commetterai in giustizia in giudizio non tratterai con parzialità il povero né userai preferenze verso il potente giudicherai il tuo prossimo con giustizia non andrai in giro a spargere calugne fra il tuo popolo né coopererai alla morte del tuo prossimo io sono il Signore non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello rimprovera apertamente il tuo prossimo così non ti caricherai di un peccato per lui ma aggiungo io non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo ma amerai il tuo prossimo come te stesso io sono il Signore osserverete le mie leggi beh non sfugge che questo brano quest'ultima frase soprattutto è oggetto di una citazione ripetuta da parte dei Vangeli da parte di Gesù ama amerai il tuo prossimo come te stesso come un altro te stesso un altro però te stesso cioè tu devi amare te stesso attraverso l'altro ecco qui mi pare mi pare che si debba si debba osservare almeno due cose la prima è questa se ci sono delle leggi che prescrivono queste attenzioni è perché normalmente queste attenzioni non ci sono se si sente il bisogno di prescriverle perché appunto verrebbe di fare o tante volte almeno qualche volta almeno verrebbe di fare il contrario cioè di essere parziali nel giudizio di fregargli le cose di non essere attenti eccetera quindi seconda osservazione qui si vede che quello che è richiesto è la giustizia e la giustizia di per sé suppone che l'altro sia concepito come prossimo visto come prossimo ma non necessariamente come amico può essere il socio può essere il membro un membro un figlio del tuo popolo rispetto al quale tu avverti una parentela un legame però che tratti appunto come persona che resta per alcuni aspetti è stranea alla tua vita ecco però questa giustizia dice Levitico non è autentica se non c'è amore e qui c'è il passaggio no? c'è il passaggio qui si vede la dinamica che vorrei illustrare anche nel nel proseguo del nostro della nostra riflessione cioè le relazioni sono date le relazioni dice il Signore vanno vissute secondo giustizia e se lo dice è perché è possibile altrimenti sarebbe crudele e tuttavia perché la giustizia sia tale occorre amore ecco questo passaggio è promesso ed è possibile ma non sempre e non tutti lo facciamo si potrebbe dire anche così l'alleanza e la giustizia che essa chiede sta in piedi lo stesso la tiene in piedi Dio con la sua fedeltà col suo continuo rilanciare la proposta ecco però l'apertura a soglie sempre più autentiche di relazione che è mantenuta da Dio dipende anche da noi e non tutti dice guarda a me sai che c'è dimmi cosa devo fare no va bene uno dice guarda il minimo per stare nella chiesa per dire è confessarsi e comunicarsi una volta all'anno e poi non fare alcune cose no è un minimo che è un po' possibile a tutti però però appunto c'è come un rammarico ecco da parte di Dio quando si ripiega no su questo su questo profilo di mediocrità perché dice no ma tu puoi tu puoi di più tu puoi di più tu sei destinato a una grandezza maggiore tu puoi di più ecco a scanso di equivoci uno dice ecco vedi però qui il popolo di Israele ci casca cioè prescrive la prossimità solo tra tra di loro solo tra di loro beh io ho letto fino al versetto 17 il versetto 33 34 dice così quando un forestiero dimorerà presso di voi nella vostra terra non lo opprimerete e uno dice vabbè questo è il minimo sindacale e però il forestiero dimorante tra voi lo tratterete come colui che è nato tra voi dice orca addirittura e no ma non è abbastanza tu lo amerai come te stesso perché anche voi siete stati forestieri in terra di Egitto io sono il Signore vostro Dio ecco ancora andando avanti allora si vede no? cioè c'è una Israele viene scelto eletto per essere il popolo di Dio dentro questa questa alleanza Dio suggerisce di vivere la giustizia una giustizia però che si apre all'amore che deve essere mantenuta animata nella sua autenticità dall'amore ecco ma poi ci sono dei casi dove proprio ci sono degli amici di Dio cioè delle persone che accolgono che sembrano accogliere la promessa e la vivono almeno in parte perché poi dopo adesso vedremo i due i due amici di cui vorrei parlare il primo rapidamente il secondo un po' più distesamente in maniera più distesa sono Abramo e Mosè ecco Abramo sarà anche amico di Dio ma non era tanto amico di Sara ecco cioè mi sembra di poter dire leggendo e andando a memoria nei testi che lo riguardano nel libro della gente e anche col primogenito Ismaele e con la schiava Agar che pure era diventata sua moglie non è stato proprio un lord uno proprio di quelli che sono disposti a dare la vita per i propri amici lui anzi ha chiesto due volte a Sara di dare lei la sua vita per lui perché lui doveva continuare la storia di alleanza con il Signore e dice guarda se qualcuno ci deve rimettere rimettici tu perché io non posso io sono il prescelto giusto? eh certo come farà anche Davide quando fa il peccato con Bersabea e il Signore gli dice adesso io però ti devo punire e allora scegli punisco te o punisco il popolo e lui a un certo punto dice eh beh però il popolo dovresti punire me ma dopo il popolo senza un re come fa? è giusto porastella e allora ci sono sempre quelli lì che dicono guarda io volentieri mi ritirerei a vita privata ma senza di me come fanno dopo eh porastella va bene in Isaia 41 si legge così versetti 5 seguenti le isole vedono e ne hanno timore tremano le estremità della terra insieme si avvicinano e vengono si aiutano l'un l'altro uno dice al compagno e qui la parola è prossimo coraggio il fabbro incoraggia l'orafo che leviga con il metallo incoraggia chi batte l'incudine dicendo della saldatura va bene e fissa l'idolo con chiodi perché non si muova dice ecco c'è una solidarietà anche tra idolatri ma non è quella che Dio desidera tra gli esseri umani al versetto 8 infatti si legge ma tu Israele mio servo tu Giacobbe che ho scelto discendente di Abramo mio amico sei tu che io ho preso dall'estremità della terra e ho chiamato dalle regioni più lontane e ti ho detto mio servo tu sei qui è da intendere mio ministro ti ho scelto non ti ho rigettato non temere perché io sono con te non smarrirti perché io sono il tuo Dio ti rendo forte e ti vengo in aiuto ecco e qui a me sembra in questo io sono con te sono il tuo Dio ti rendo forte ti vengo in aiuto ti ho scelto che ci sia Dio che dice guarda vorrei tanto che tra di noi ci fosse una relazione particolare non oso chiederla ma io la offro non oso chiederla ma io la offro Abramo ha risposto ed è il mio amico Abramo ha risposto ed è il mio amico e a lui ho dato il compito di portare di essere tramite di benedizione per tutte le famiglie della terra in Esodo 33 invece a proposito di Mosè si legge così al versetto 11 il Signore parlava con Mosè faccia a faccia e qui ci viene in mente Genesi 2 un aiuto che gli sta di fronte faccia a faccia come uno parla con il proprio amico cioè tra Dio e Mosè non c'è soltanto obbedienza non c'è soltanto rispetto quel rispetto che prende il nome a volte di timore non c'è soltanto l'attribuzione di un compito quindi una fiducia data alle capacità di Mosè c'è proprio amicizia e viene espressa così faccia a faccia cioè Dio si dona in un rapporto alla pari con Mosè e poi va avanti il testo e dice così Mosè dice siamo nel contesto del peccato del vitello d'oro quindi Mosè sta intercedendo perché Dio non si stanchi di questo popolo e a un certo punto dice sentite c'è una finezza straordinaria in questa contrattazione in questa intercessione di Mosè presso il suo amico Dio vedi tu mi ordini fai salire fai uscire questo popolo ma non mi hai indicato chi manderai con me eppure hai detto ti ho conosciuto per nome anzi hai trovato grazie ai miei occhi cioè mi hai detto che sono tuo amico che tra me e te c'è un rapporto speciale ora se davvero ho trovato grazie ai tuoi occhi cioè se ti sono piaciuto indicami la tua via così che io ti conosca e trovi grazie ai tuoi occhi il Signore risponde il mio volto camminerà con voi e ti darò riposo e ma Mosè non è contento riprende dice ma se il tuo volto non camminerà con noi non farci salire da qui come si saprà dunque che ho trovato grazie ai tuoi occhi io e il tuo popolo se non nel fatto che tu si verrebbe ad aggiungere in persona cammini con noi cioè non gli basta che il suo volto cammini con loro lui vuole che cammini lui in persona così sarebbero distinti diversi io e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra e il Signore dice a Mosè anche quanto hai detto io lo farò perché hai trovato grazie ai miei occhi e ti ho conosciuto per nome a questo punto Mosè osa tutto e dice mostrami la tua gloria e Dio dice farò passare davanti a te tutta la mia bontà proclamerò il mio nome eccetera eccetera e dice ma tu non potrai vedere il mio volto perché nessun uomo può vedermi e restare vivo ecco tu starai sulla rupe quando passerà la mia gloria io ti coprirò e mi potrai vedere di spalle che cosa vuol dire questa cosa vuol dire che Dio si dona non si dona totalmente nella relazione sì si dona totalmente ma la relazione per non diventare dalla parte di Mosè subito idolatrica non può essere segnata dal possesso deve essere segnata dal rispetto dell'asterità come dice il buon Nietzsche che tante volte si scopre lettore profondo della sacra scrittura anche se poi dopo appunto la interpreta o prende delle derive sulle quali è un po' difficile seguirlo ecco cioè qui qui viene fuori no l'amicizia deve deve anche tutelare un segreto custodire un mistero non può voler vedere tutto sapere tutto l'asterità dell'altro è un limite il fatto che l'altro non sia io e che lui non sia me impone reciprocamente un limite un rispetto e quindi anche il mantenimento di una distanza sì di una distanza non è consentita alcuna fusione meno che mai è consentito il possesso esattamente quello in cui è accaduto Adamo nei confronti di Eva Caino nei confronti di Abele eccetera l'impresa civile nei confronti del mondo della natura e l'impresa totalitaria nei confronti delle persone ecco queste identificazioni sono una cosa che la Bibbia ritiene abominevoli abominevoli tutta la creazione si fa per separazione e distinzione Dio crea continua a creare alterità diversità questo non vuol dire che appunto non ci sia amicizia ma l'amicizia è da vivere nella distanza e nel rispetto non so se ricordate quel film famoso di Kubrick Ice Why Shut che si ispira a un racconto di Arthur Schnitzler Doppio sogno e tutto il dramma è innescato quando i due marito e moglie che vivono una vita borghese molto felice molto tranquilla si dicono questa cosa dobbiamo dirci tutto e lì cominciano i casino no è meglio di no è meglio di no anche Dio ogni tanto chiude un occhio qualche volta li chiude tutte e due altrimenti sarebbe la sua presenza sarebbe oltre che ossessiva devastante devastante è uno che ti fa la radiografia a tutti i momenti no lui ci avrebbe anche i raggi X ma si vieta di usarli non ci vuole spiare nelle nostre nudità anzi ci ha fatto dei vestiti lui stesso ci ha autorizzato a vestirci ecco quindi nonostante ci sia una progressione nella richiesta di intimità da parte di Mosè che è l'amico di Dio e che in quanto amico di Dio media intercede per il popolo che Dio sia amico del popolo e il popolo speriamo di essere amico di Dio ecco a un certo punto subisce uno stop dice guarda tutto ma non tutto quasi tutto ma non tutto il mio volto no il mio volto no di questa amicizia particolare tra Dio e Mosè parla anche il capitolo 12 del libro dei numeri dove a un certo punto vediamo tre fratelli che danno buona prova di sé o meglio due fratelli una sorella un fratello Maria e Aronne che parlano contro Mosè fanno del pettegolezzo mormorano a causa della donna etiope che aveva preso figurati se non devono giudicare no come si dice i gusti no ma in realtà non è questo il motivo il motivo è questo è quello che dichiarano dissero il Signore ha forse parlato soltanto per mezzo di Mosè non ha parlato anche per mezzo nostro cioè cos'è sta storia che lui si crede il super profeta ma siamo anche noi il Signore udì hai ora Mosè era un uomo assai umile più di qualunque altro sulla faccia della terra infatti qui non dice una parola chi lo difende dall'invidia altrui Dio allora dice a Mosè a Aronne a Maria uscite tutti e tre verso la tenda del convegno uscirono tutti e tre il Signore scende nella colonna di nube si ferma all'ingresso della tenda e chiama Aronne e Maria dice un passo avanti voi due e dice ascoltate le mie parole se ci sarà un vostro profeta io il Signore in visione a lui mi rivelerò in sogno parlerò con lui quindi voi potete ambire a questa cosa ma certo però non così per il mio servo Mosè egli è l'uomo di fiducia in tutta la mia casa non dice più faccia a faccia dice addirittura bocca a bocca parlo con lui in visione e non per enigmi ed egli contempla l'immagine del Signore punto perché non avete temuto di parlare contro il mio servo contro Mosè allora qui Dio difende Mosè mettendosi in mezzo tra i due fratelli che non gli vogliono un gran bene in questo momento e il povero Mosè che subisce in silenzio l'aggressione ecco questo bocca a bocca ritorna alla fine di Deuteronomio Mosè servo del Signore morì in quel luogo nella terra di Moab secondo l'ordine del Signore questo secondo l'ordine del Signore non è una traduzione sbagliata però è interessante si potrebbe tradurre la lettera sulla bocca del Signore cioè siccome non voleva sapere di morire Dio per farlo morire ha dovuto baciarlo sulla bocca del Signore colui che parlava con Mosè bocca a bocca e poi aggiunge qualche versetto dopo non è più sorto in Israele un profeta come Mosè che il Signore conosceva e lo dice di nuovo faccia a faccia allora si conoscono faccia a faccia ma non possono scrutarsi in volte si conoscono faccia a faccia ma il volto deve celare un mistero che è l'asterità la libertà dell'altro ecco qui avete sentito più volte sia a proposito di Abramo sia a proposito di Giacobbe sia a proposito di Mosè che ritorna la parola servo ecco siccome abbiamo nelle orecchie dall'inizio che un servo non può avere amici e un tiranno non può un servo non può essere amico di nessuno e un tiranno non può avere amici ecco ci viene la domanda dice ma come è possibile l'amicizia in un rapporto così squilibrato beh tenete conto che il servo di un grande non è sempre i servi del faraone non erano i camerieri i servi del faraone erano i suoi ministri come diventerà poi in latino il servo ministro vuol dire servo servitore ma sapete servire un imperatore non è come servire è chiaro è un titolo onorifico dice infatti servo di Dio detto da Dio stesso di qualcuno succede quattro tre quattro cinque volte nella Bibbia in tutto l'Antico Testamento Mosè e Abramo e Giacobbe e Giobbe e Giobbe il mio servo Giobbe e Davide non credo ce ne siano altri quindi qui qui appunto no? ecco allora semmai l'altra domanda quella più vera che ci interessa di più è sì ma va bene Mosè è stato un caso ma noi possiamo ambire ad essere amici di Dio e ad essere amici tra di noi? ecco questo è il secondo passo che faccio ovviamente da adesso in avanti andrò più velocemente il secondo passo dice così che siamo liberati per fare alleanza e l'alleanza però come si legge subito nel libro del Deuteronomio che riflette sulla alleanza chiede il cuore nel capitolo 6 Deuteronomio dice nello Scema Israele ascolta Israele il Signore è il tuo Dio il Signore è uno amerai il Signore è il tuo Dio con tutto il cuore con tutta l'anima ecco cioè non basta Deuteronomio comprende e dice rivela che non basta entrare in un rapporto giuridico con il Signore anche se qualcuno si attiene a quello si ferma lì quello che lui desidera per l'autenticità di questo rapporto e quindi per l'autenticità delle relazioni tra coloro che sono costituiti parenti e se vogliono persino amici tra di loro grazie all'alleanza con lo stesso Dio ecco occorre il cuore occorre l'amore anche qui credo se volete potete vedere al capitolo al capitolo 30 i primi versetti appunto dice tu ti devi convertire se ti convertirai al Signore tuo Dio e obbedirai alla sua voce tu i tuoi figli con tutto il cuore con tutta l'anima allora Signore tuo Dio cambierà la tua sorte eccetera eccetera e poi più avanti se non ce la fai confida sul fatto che lui ti aiuta cioè il Signore tuo Dio circonciderà il tuo cuore e il cuore della tua discendenza perché tu possa amare il Signore tuo Dio con tutto il cuore con tutta l'anima e la grande mediazione di questa cosa è la parola questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te né troppo lontano da te non è nel cielo perché tu dica chi salirà per noi in cielo per prendercelo e farcelo udire affinché possiamo eseguirlo non è al di là del mare perché tu dica chi attraverserà per noi il mare per prendercelo e farcelo udire affinché possiamo eseguirlo anzi questa parola è molto vicina a te è nella tua bocca e è nel tuo cuore perché tu la metta è interessante se uno vuol fare l'esperienza di Mosè con il quale Dio stava faccia a faccia e parlava bocca a bocca dice Deuteronomio basta che legga la parola come parola che Dio gli rivolge personalmente va bene terzo passo però qui noi dice ma è possibile sta roba sì come diceva anche Silvano perché accade sì perché accade e se accade e accade cioè ci sono persone che questa amicizia con Dio e tra di loro la vivono ecco c'è una pagina alla fine del libro del libretto del profeta Malachia che dice questa cosa in maniera strepitosa cioè Dio viene accusato il popolo è risentito nei confronti di Dio perché non ha il successo che sperava di avere nella storia e il profeta svela questo pensiero del cuore dice duri sono i vostri discorsi contro di me e andate dicendo che cosa abbiamo detto contro di te è facile dire ma voi parlate male di me e quelli dicono ma va ma ci mancherebbe no dice se no no invece avete affermato pensate sentite è inutile servire Dio che vantaggio abbiamo ricevuto dall'aver osservato i suoi comandamenti o dall'aver camminato in lutto davanti al Signore degli eserciti dobbiamo invece proclamare beati superbi che pur facendo il male si moltiplicano e pur provocando Dio restano impuniti capite cioè se il rapporto con Dio non è vantaggioso utile se non mi porta dei privilegi vale la pena davanti a questo attacco sentite cosa succede sarebbe sarebbe da prendere come icona per la sinodalità se a qualcuno interessasse ma temo che non interessi molto allora parlarono tra loro i timorati di Dio meraviglioso il Signore porse l'orecchio e li ascoltò il Signore ascolta come i suoi amici parlano di lui un libro di memorie fu scritto davanti a lui per coloro che lo temono e che onorano il suo nome e in che cosa avranno scritto in questo libro delle memorie i grandi gesti che Dio ha fatto di amicizia di amore di cura per loro essi diverranno dice il Signore degli eserciti la mia proprietà particolare nell'ebraico segullà la proprietà particolare il resto di Israele come dirà ripetutamente il profeta Isaia c'è sempre un resto che ce la fa e che ce la fa per sé ma anche per noi se sappiamo vedere e se sappiamo apprendere dalla contemplazione della loro amicizia con Dio proprietà particolare di cui il Signore dice avrò cura di loro come il padre a cura del figlio che lo serve voi allora di nuovo vedrete la differenza fra il giusto e il malvagio fra chi serve Dio e chi non lo serve cioè la giustizia di nuovo si fonda su una relazione più profonda e questa segullà è quello che già risuonava nel libro dell'Esodo al capitolo 19 quando il Signore appunto dice a Mosè di riferire al popolo queste parole voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me questo è il libro delle memorie devi fare memoria del dono ricevuto ora ora è il momento dell'impegno dell'alleanza se darete ascolto alla mia voce custodirete la mia alleanza voi sarete per me una proprietà particolare una segullà fra tutti i popoli mia infatti è tutta la terra voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa attenzione perché non è che ve la tenete per voi questo privilegio i sacerdoti sono i mediatori se fanno il loro mestiere una nazione santa è una nazione che mostra la sua differenza ma non per essere per segnalare agli altri che sono inferiori o che sono mancati ma perché anche ad essi possa essere disponibile questa relazione saranno benedette in te tutte le famiglie della terra e su questo Mosè non ha mai avuto invidia Mosè avrebbe voluto che tutti fossero profeti in Israele dice guardate ma non è che io no perché a un certo punto c'è un episodio dove lo spirito santo scende su delle persone e due che sono rimaste nell'accampamento si mettono a profetizzare allora arriva il giovanotto quello che vuole essere sempre la pista del papa e dice il dad e medad profetizzano nell'accampamento siamo nel libro dei numeri al capitolo 11 e Giosuè figlio di Nun servitore di Mosè il suo vice prende la parola e dice Mosè mio signore impediscilo meraviglioso e Mosè dice ma sei geloso tu per me fossero tutti i profeti nel popolo del Signore fossero tutti i suoi amici e sentissero tutti che lui è amico e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito beh questa promessa la troviamo appunto adempiuta nel nel Vangelo è il dono del risorto Gesù ne parla nei discorsi della cena e questa questo dono del paraclito sarà ciò che permetterà a ciascuno e a ciascuna se vogliono di dire di ridire il Vangelo con le loro proprie parole cioè di farlo proprio e di ridirlo con le proprie parole questo perché quarto e ultimo passo Gesù ci ha chiamato amici il criterio l'equazione della rivelazione evangelica è questa chi vede Gesù vede il padre quindi se noi vediamo Gesù che parla vuol dire che il padre parla se noi vediamo Gesù che serve vuol dire che il padre serve se noi vediamo Gesù che ci chiama amici vuol dire che il padre vuole la nostra amicizia per quanto strano possa sembrare a orecchie ancora troppo abituate al patriarcato che un padre possa essere anche un amico e il criterio evangelico è il frutto dice non fidatevi delle apparenze sono degli alberi bruttissimi da vedere ma che fanno dei frutti strepitosi e degli alberi invece meravigliosi che se provi a mangiare una bacca di quelle lì che producono stai a gabinetto tre settimane vedi tu vedi tu vedi tu quindi giudicate dei frutti e infatti al capitolo 15 la vita i tralci il padre il vignaiolo io sono la vita voi siete i tralci e avete bisogno di restare attaccati a me di essere potati per portare più frutto il frutto il frutto e cos'è questo frutto e il frutto è l'amore appunto quello di cui si parla al centro di questo capitolo dal versetto 12 questo è il mio comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato e dice vabbè e cioè come ci hai amato nessuno ha un amore più grande di questo dare la vita per i propri amici si potrebbe anche tradurre o interpretare dare la vita per fare farci amici suoi e tra di noi non vi chiamo più servi perché il servo non sa quello che fa il padrone ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal padre mio l'ho fatto conoscere a voi cioè noi siamo siamo quelli convocati nella nell'intimità di Dio se vogliamo questa convocazione dice a me mi basta una grazia ogni tanto un po' di consolazione e qualche prospettiva qualche speranzina per il futuro basta cioè chiedimi di andare a messa ogni tanto di fare qualche lemosina va bene così e il signore ci resta male dice vabbè però va bene così ti perdi delle cose belle uno dice basta se mai sarà possibile l'amicizia vedremo in paradiso e vabbè a chi pensa così il signore cosa volete che gli dica no ma sì ma sì va bene va bene però però appunto Gesù istituisce qui definitivamente la possibilità dell'amicizia ma un'amicizia attenzione che promette e che offre a discepoli che all'inizio del capitolo 13 no e alla fine del capitolo 13 lui stesso dirà voi mi tradirete mi rinnegherete mi lascerete da solo e ancora alla fine del capitolo 16 questi diranno oh beh bravo Gesù adesso hai parlato chiaro adesso non tieni niente nascosto eccetera eccetera e adesso ci crediamo e lui dice adesso ci credete ma tra qualche ora mi lascerete da solo e però io non vi toglierò la mia amicizia mai più mai più ecco cioè attraverso fallimenti cadute tradimenti nostri Dio il padre il figlio e nello spirito santo mantiene questa apertura nel figlio siamo figli nell'amico siamo amici ma perché questa cosa ci appaia plausibile dobbiamo anche guardarci intorno saper scovare amici amiche di Dio e contemplarli senza invidia e uno dice eh cavolo mi piacerebbe essere Mosè va bene non sei Mosè ma tu puoi avvantaggiarti di Mosè della sua mediazione mi piacerebbe essere un un grande santo e va bene tu non sei un grande santo però ci sono dei santi grazie ai quali tu puoi puoi venire a capire e puoi venire a accedere a dei livelli a una qualità delle relazioni che senza di loro sarebbe difficile ritenere possibili possibili bene finisco con eh tre tre quattro rapidi annotazioni la prima è questa da parte di Dio e fin dall'inizio c'è un'offerta di autenticità delle relazioni senza ripensamenti e sempre rilanciata nonostante opposizioni fallimenti ostilità e questa è la dinamica di fondo l'abbiamo detto fin dall'inizio le relazioni sono date ma debbono essere assunte nella responsabilità e nella libertà e possono essere assunte nella responsabilità e libertà a livelli sempre più profondi cioè una relazione tra umani che sono a immagine e somiglianza di Dio è una relazione infinita come dice il titolo dell'opera di una delle opere più significative di Emanuele Vina intitolata appunto totalità infinito se tu devi scegliere tra la totalità che chiude e l'infinito che apre non devi avere dubbi e l'immagine centrale di questa infinità è il volto è il volto dell'altro che nasconde un mistero e che suscita una responsabilità e una cura nella sua nel suo mostrarsi disarmato disarmato però appunto bisogna saperla vedere così nella relazione bisogna volerla vivere così seconda seconda annotazione si tratta sempre da parte di Dio di un dono e di un perdono da parte di Dio e da parte dei suoi amici e delle sue amiche ecco entrare in questa dinamica di gratuità è impegnativo e però questa sembra essere la nostra missione il nostro compito anche perché è questa propriamente la benedizione che portiamo a tutte le famiglie della terra nel nome dell'amico di Dio che è Abramo altrimenti cosa portiamo la frequentazione di Dio per gli altri che vantaggio rappresenta ecco e questo appunto ci tiene in particolar modo il Vangelo di Giovanni a dire bene ma questa promessa di Abramo è compiuta in Gesù terza osservazione da parte nostra si stratterà sempre di approssimazioni dell'amicizia o dell'autenticità delle relazioni approssimazioni che varie in due sensi di avvicinamenti farsi prossimi e di però appunto anche incompiutezza attenzione un'approssimazione non a un ideale l'amicizia un ideale altissimo noi ci avviciniamo no ci avviciniamo a persone reali e viviamo nelle possibilità date poste dalle situazioni dalle condizioni e anche dalle forze che abbiamo a disposizione questo naturalmente ce lo richiamava già remotti richiede il tempo necessario la capacità di attraversare fallimenti e tradimenti inevitabili senza che la frustrazione ci renda cinici e ci faccia arrabbiare al punto di dire questa roba è impossibile ci deve rendere disponibili a faticose rivelazioni e a valorizzare a realizzare sempre relazioni che hanno sono segnate da parzialità incompiutezza il fatto però che siano sempre messe in discussione che siano parziali incompiute eccetera e faticose non toglie che queste relazioni siano preziose e possibili certo bisogna se qualcuno pensa che vale la pena impegnarsi nell'amicizia solo se io riesco a vivere un'esperienza esemplare probabilmente non comincerà mai a vivere questa esperienza mai perché avrà sempre un motivo per dire non ci sono ancora tutte le condizioni non ho ancora trovato la persona giusta eccetera eccetera da ultimo quarta sottolineatura nel Vangelo c'è persino questo ed è molto inquietante Gesù a un certo punto ci chiede di amare i nemici non solo gli amici e che cosa vuol dire amare i nemici se non offrire anche loro la possibilità di un'amicizia cioè di non essere più tali nemici ma amici ecco se accolgo il dono che altri e dietro di loro l'altro mi fanno dell'amicizia posso offrirlo anche a chi mi è o ci è nemico sembra che Matteo al capitolo qui cinque alla fine del capitolo cinque ritenga proprio di sì questa è la perfezione di Dio e questa può essere la nostra perfezione nel senso di compimento ma certo è un cammino è un cammino saremo sempre per strada apprendere da Dio e dal suo amore per noi nemici imparare a crederci e imparare a guardare commuoversi davanti alla sua fede in noi lui ci crede che possiamo farlo beh credo che questo ci possa dare l'energia almeno di provarci e di riprovarci poi non saremo giudicati se mai c'è un giudizio sui risultati ma sui tentativi grazie